preghiere per ogni giorno del mese di maggio undici maggio donna tutta santa nel nome del padre del figlio e dello spirito santo o maria madre del signore veramente tu sei più preziosa di tutta la creazione da te il figlio di dio nel quale tutto fu creato ha ricevuto le primizie del suo corpo umano la sua carne fu fatta dalla tua carne il suo sangue dal tuo sangue dio si è nutrito del tuo latte le tue labbra lo hanno baciato le tue braccia lo hanno stretto a sé o donna tutta amabile tre volte beata tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno o donna tutta santa vivente capolavoro di dio che in te si compiace o donna tutta grazia dio ti ha scelta per dare compimento al suo progetto di amore di salvezza per assumere la nostra umanità e renderci partecipi alla sua divinità vergine madre di dio e degli uomini maria noi ti chiediamo il dono dell'equilibrio cristiano tanto necessario alla chiesa e al mondo di oggi liberaci dal male e dalle nostre meschinità salvaci dei compromessi e dai conformismi tienici lontano dai miti e dalle illusioni dallo scoraggiamento e dall'orgoglio dalla timidezza e dalla sufficienza dall'ignoranza e dalla presunzione dall'errore e dalla durezza del cuore donaci la tenacia dello sforzo la calma nella sconfitta il coraggio per ricominciare l'umiltà nel successo apri i nostri cuori alla santità donaci una perfetta semplicità un cuore puro l'amore alla verità e all'essenziale la forza d'impegno senza calcolo alcuno la lealtà di conoscere i nostri limiti e di rispettarli accordaci la grazia di sapere accogliere e vivere la parola di dio accordaci il dono della preghiera apri i nostri cuori a dio noi ti chiediamo l'amore alla chiesa così come tuo figlio l'ha voluta per partecipare in essa e con essa in fraterna comunione con tutti i membri del popolo di dio gerarchia e fedeli alla salvezza degli uomini i nostri fratelli infondici per gli uomini comprensione e rispetto misericordia e amore apri il nostro cuore agli altri mantienici nell'impegno di vivere e di accrescere questo equilibrio che è fede e speranza sapienza e rettitudine spirito di iniziativa e prudenza apertura e interiorità dono totale amore santa maria noi ci affidiamo alla tua tenerezza amen promettiamo di impegnarci ad offrire le fatiche del vivere quotidiano al signore soprattutto quanto costano molta fatica e pazienza amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen recitiamo tre ave maria per la fede la speranza e la carità ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen salve regina madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve a te ricorriamo noi esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata la nostra rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria che dio ci benedica faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti grazie 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 Grazie.